Allora innanzitutto buongiorno, buongiorno a tutti, saluto i presenti quindi Marco Bruschini accanto a me, direttore di Atim, Carlo Mancini come presidente del consorzio organizzatore, Michele Pietrucci presidente della Samura e poi abbiamo Giuseppe Mascino del comitato organizzatore. Allora prima di iniziare la conferenza stampa chiedo ovviamente alla regia se è possibile inviare il video dell'evento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco di nuovo buongiorno, grazie ovviamente di essere qui presenti, porto i saluti del presidente Francesco Acquaroli e sicuramente come abbiamo visto tra l'altro appunto da questo video, un video molto bello. La regione Marche si appresta ad ospitare una tappa, la tappa diciamo l'unica tappa italiana della campionato italiano appunto di classi olimpiche dal 26 settembre al primo ottobre. È una tappa sicuramente importante perché innanzitutto credo che già vedere insomma tutte queste imbarcazioni di fronte al nostro porto, il porto di Ancona, credo che già questo insomma sia molto entusiasmante. ma sicuramente il fatto di poter ospitare una tappa così importante è anche un modo per far conoscere la nostra regione e soprattutto far conoscere la città di Ancona, quindi in maniera particolare appunto il Marina d'Orica. dà la possibilità ecco di una visione d'insieme come abbiamo visto appunto nel video, parliamo anche di cultura, parliamo anche di tradizione e sicuramente la mole bambitelliana in maniera particolare credo che sia forse l'elemento simbolo e grazie anche a questa regata avremmo appunto l'opportunità di poterla vedere. un campionato che darà poi tra l'altro il pass insomma per Parigi, Parigi 2024, quindi dieci classi appunto abbiamo visto veliche che potranno disputare nel nostro mare, 300 atleti, anche questo è un altro dato particolarmente significativo. tutto questo dimostra ancora una volta come lo sport in maniera particolare oltre ad essere diciamo inclusione, oltre ad essere sicuramente benessere, oltre al fatto di stare, di dare la possibilità di stare insieme come appunto vedevamo prima nel video, e anche un volano di promozione che appunto stiamo portando avanti con l'ATIM che è appunto la nostra agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione e sta proprio lavorando verso questa direzione, cercare appunto di far conoscere il più possibile le bellezze del nostro territorio appunto attraverso, anche attraverso lo sport. e tra l'altro mi permetto di aggiungere che questa manifestazione cade in un momento anche se vogliamo particolare proprio per l'Italia in generale perché proprio recentemente il 20 di settembre è una data storica perché per la prima volta lo sport in maniera particolare, l'attività sportiva entra nella nostra carta costituzionale e quindi viene riconosciuta a pieno titolo tra quelli che sono i diritti di cui i cittadini italiani possono appunto godere, vedendo proprio l'attività sportiva come valore di educazione, come valore di inclusione e come valore proprio di benessere e di promozione appunto psicofisico. Quindi io ovviamente ringrazio a nome mio personale, del presidente e di tutta la giunta che oggi rappresento, ringrazio ovviamente anche gli organizzatori e tutti coloro che rendono possibile manifestazioni così importanti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti per quello che avete fatto, c'è stata un'intesa perfetta, ci siamo capiti subito e siamo riusciti a fare un prodotto estremamente importante proprio per la promozione del territorio. Avere 300 equipaggi qui nella nostra città di Ancona che possono diventare ovviamente poi dei grandi ambasciatori in tutto il territorio nazionale sicuramente è una grande opportunità. Come è una grande opportunità avere la vela, siamo reduci da questo grande successo che c'è stato con la vela proprio una settimana fa e quindi dobbiamo ripetere anche col ciclo, quindi è estremamente importante. Perché Ancona anche sta cambiando volto da questo punto di vista, quindi avere la possibilità di essere un palcoscenico di questi grandi eventi sportivi sicuramente ci dà delle grandi opportunità per fare promozione del territorio. Grazie. Grazie a tutti. 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 l'Italia sotto il profilo della vela delle classi olimpiche, quelle barche che andranno a competere nel mondo della vela le prossime Olimpiadi di Parigi e di cui sarà anche un trampolino di lancio per molti velisti. È la prima volta che viene nelle Marche per una grande opportunità per noi, per la regione, per il territorio come è stato appena detto, se pensate agli anni precedenti, gli ultimi cinque anni si è svolto in terreno, in luoghi capitali della nautica come il porto di Genova, il porto di Roma, in Toscana, al lago di Garda. Insomma è stato assegnato nelle Marche e nella città di Ancona grazie a un'importante sinergia che si è creata con Regione Marche, con il Comune e con Marina Dorica e grazie a questo consorzio che si è creato, poi vi parleremo anche di questa. Insomma, come abbiamo detto, è anche un'occasione di visibilità turistica, rafforza molto l'immagine, siamo sicuri, anche della Regione. Ecco, la location dell'evento sarà la Marina Dorica, il porto turistico di cui poi non ve ne parlo perché qui abbiamo il Presidente, sarà lui ad accennare questo, a parlare un po' del Marina. L'headquarter sarà il villaggio di Marina Dorica, dove c'è un villaggio FIV, per cui è destinata un po' la cerimonia di apertura, dove sarà un po' tutto un po' il cuore pulsante della manifestazione. I campi di regata saranno prospicenti, come abbiamo detto, dal porto di Ancona e l'arriera del Conono, ma poi rispetto un po' più tecnico parlerà Giuseppe Mascino. Non ci saranno solo eventi in mare, chiaramente la parte agonistica e sportiva è la parte più importante, ma ci saranno anche delle attività a terra, come abbiamo detto poco fa, i ragazzi per ritrovarsi, fare coesione. Durante la settimana dell'evento verranno organizzati diversi modi di incontrarsi, oltre che tra gli atleti, anche manifestazione aperta alla città. Abbiamo coinvolto anche le scuole, al saldo mattina ci sarà un convegno di dati coscientico sul tema della sostenibilità del mare, abbiamo coinvolto diverse scuole di Ancona. Verranno trattati dei temi turistici, con un meeting che sarà venerdì pomeriggio, venerdì 29, 30, adesso no, sotto mano, che tratterà un po' l'aspetto turistico del capoluogo, come è stato detto poco tempo fa, stiamo andando veramente per rimanere in tema a gonfie vele, grazie al nuovo brand Marche. Ci sarà un altro appuntamento spuntivo, scientifico, insomma, a cui adesso daremo anche informazioni e comunicazioni nei prossimi giorni. Insomma, un evento completo non solo per le passate di mare, ma anche per le attività a terra. Come è stato detto, i numeri del ciclo, ci sono 300, circa più di 300 imbarcazioni iscritte che si portano dietro un entourage di più di mille persone, tra allenatori, ufficio stampa, e siamo sicuri che sarà un evento stimabile a diverse migliaia di presenze complessive tra visitatori e partecipanti. Un'ottima opportunità per promuovere anche la città di Ancona e le Marche in questo periodo, diciamo, a fine stagione, no? Questo effetto di stagionalizzazione, noi grazie allo sport usciamo sicuramente ancora ad avere una città partecipata e ricca, no? Una città, una regione piena di impianti sportivi e anche di nomi sportivi, perché, insomma, grazie anche alla regione che sta valorizzando i nostri sportivi in Italia e nel mondo, quando abbiamo campioni come Mancini, come Tamberi, ecco, insomma, siamo orgogliosi e fieri. E noi continuiamo sicuramente con lo sport, come dei colori traono, per il turismo, per la cultura, per far conoscere la nostra regione. Anche per questo motivo è nato un rafforzamento tra le imprese del turismo, no? Sono state create tante convenzioni con più di 50 strutture, tra alberghi, ristoranti, bar, di cui tutti, insomma, gli attreti e tutto l'interioraggio sussurranno, conoscendo anche la città di Ancona e nella provincia. Una cosa che ci teniamo è la vela, non c'è bisogno di dirlo, è uno sport sostenibile per natura, che andiamo con il vento, quindi sarà anche un evento a alto e basso impatto e sostenibilità ambientale, nel senso, vogliamo ricordare, le azioni sarà un ciclo plastico free, non sarà consentito l'utilizzo dei bottigliette d'acqua, ma tireremo dei distributori d'acqua e tutti gli atleti verranno distribuiti delle burracce apposite. Al rientro delle regate ci sarà un branch per gli atleti, che insomma, sarà in mare tutto il giorno, dove verranno utilizzati tutto il materiale compostabile, insomma, verrà dato uno shopper agli atleti con materiale informativo sulla sostenibilità, oltre che al materiale turistico della regione Marche, come confordato, insomma, è un evento un po' completo, stiamo toccando tanti aspetti dello sport, della cultura, della sostenibilità. Ecco, insomma, adesso passo la parola, prego, se non passa lei al dottor Pietrucci, io così completiamo magari con altri aspetti della manifestazione. Grazie, innanzitutto, e sì, passiamo la parola a Michele Pietrucci, che è presidente proprio di Stamura. Grazie, assessore. Prima di tutto, sono presente a questa conferenza, sia come Presidente della Stamura, ma in particolar modo per presentare il comitato organizzatore, che è l'anima della manifestazione, raccontando brevemente quello che abbiamo fatto con i colleghi dei circoli anconetani, con i colleghi dell'Ancona Yacht Club, dell'Assonautica Ancona, la Lega Navale Italiana Ancona, e con la sostenibilità di Stamura, che è il mio onore di presiedere, abbiamo ritenuto opportuno costituire in via stabile un consorzio, proprio con le finalità a cui faceva accenno sia l'assessore, sia al dottor Bruschini che Carlo Cancini, cioè di dare continuità a quella che è un'azione che i circoli anconetani, affiliatori a FIV, hanno svolto negli anni precedenti, cioè di realizzare eventi sportivi di grande qualità e livello, con la finalità ovviamente di promuovere lo sport, in particolare lo sport della vela, ma anche il turismo, il territorio, la collettività della Regione Marche e di Ancona. Quindi con i colleghi qui presenti abbiamo costituito una realtà societaria, da cui poi è nato il Comitato Organizzatore, che è impegnato nell'organizzazione del CICU 2023. Non siamo digiuni di eventi importanti, di un'organizzazione di eventi importanti nell'ambito velico, in quanto con la collaborazione di Marina Dorica, qui rappresentata dal Presidente Leonardo Zucchero, abbiamo realizzato e gestito eventi quali il Mondiale Orca 2013, e altre regate di livello internazionale. Quello che forse ci è mancato è un pochino l'intensità e la costanza, e questo è quello che noi vogliamo fare, è proprio alzare l'asticella, usando un termine vicino a quello dell'atletica, richiamando il nostro Jimbo Tamberi, e creare una realtà che possa promuovere la nostra costa, il nostro territorio, che non ha niente da invidiare a altre location, che abitualmente ospitano eventi di grande rilievo e che sono utili allo sport e al territorio. Grazie. Grazie, ovviamente anche a lei, e adesso passo la parola appunto al Presidente di Marina Dorica, Leonardo Zucchero. Ecco, Marina Dorica ha appena spento i riflettori sulla regata del Conero, che come ricordava il direttore Atim Moschini, è stata disputata esattamente una settimana fa, domenica scorsa, e immediatamente ci siamo messi al lavoro, in realtà al lavoro c'eravamo già ben prima, ci siamo messi al lavoro per questo nuovo appuntamento di grandissima importanza. I numeri sono stati già dati, io volevo soltanto sottolineare come Marina Dorica è l'esempio di come lo sport possa stimolare, oltre che il turismo, il turismo nautico e il turismo del territorio, anche la partecipazione delle imbarcazioni all'interno del porto, quindi la presenza di imbarcazioni. Nel 2013, quando è stato ricordato adesso, quando Marina Dorica organizzò il Mondiale, il porto aveva un tasso di occupazione di circa il 65%, dopo il Mondiale piano piano si è innescato una spirale virtuosa che ha portato anno dopo anno il numero delle presenze di imbarcazioni a crescere. La cosa importante da sottolineare è che oggi Marina Dorica ha una presenza fondamentale di armatori che provengono da fuori Ancona, da fuori del territorio, quindi questo è proprio turismo nel vero senso della parola. La manifestazione, come è stata già detta, si articolerà su questi giorni, dal 26 al 1 di ottobre, e vedrà la presenza di circa un migliaio di persone. A queste persone Marina Dorica sta dando tutto il supporto logistico possibile, quindi abbiamo messo in mare dei puntili nuovi, abbiamo realizzato dei nuovi volumi per raccogliere sia per quello che riguarda il branch, ma anche quello che riguarda la vita sociale all'interno dell'area destinata alle regate. E poi la piazzetta di Marina Dorica che come sapete è uno scenario straordinario per questo tipo di manifestazioni, accoglierà oltre al palco e alle sedi, accoglierà anche tutta la parte diciamo della comunicazione di questa manifestazione. Stiamo lavorando alacremente, io credo che partiremo perfetti e precisi al giorno dell'inaugurazione e devo ringraziare anch'io a nome di Marina Dorica il supporto straordinario che ci è stato dato dalla Regione e dal Comune di Ancona. Grazie. Grazie, ovviamente adesso facciamo concludere al Comitato Organizzatore, quindi a Giuseppe Mascino. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti, appunto Giuseppe Mascino mi occupo nell'ambito del Comitato Organizzatore della gestione sportiva, tecnica sportiva di tutte le operazioni in acqua. Quando un anno fa in un incontro che c'è stato in occasione di un importante campionato il Presidente della FIV Francesco Ettore ci ha preannunciato che aveva intenzione di affidarci a noi nelle Marche e alla città di Ancona il Cico, da una parte chiaramente visto il rilievo dell'importanza della manifestazione ci siamo subito sentiti molto onorati e lusingati, dall'altra anche estremamente preoccupati perché l'organizzazione di questo evento ve lo dice uno che purtroppo diciamo gli anni che sono passati tradiscono il fatto che non sono più giovani. Io ho partecipato al primo ciclo della storia del 94 e da regatante ho visto effettivamente qual è l'ingentissimo sforzo organizzativo di organizzare una regata del genere. Voi dovete capire che le classi olimpiche questo è il campionato italiano assoluto delle classi olimpiche cioè le imbarcazioni che vanno alle Olimpiadi cioè che sono rappresentate nella disciplina della vela alle Olimpiadi sono otto tra queste otto classi ci sono un windsurf su foil un kitesurf su foil un catamarano su foil due doppi un singolo e ben due classi paralimpiche ok? perché anche chiaramente alle Olimpiadi ognuna di queste classi regata in un campo a sé campo vuol dire in un'area del mare definita quindi non regatano tutti assieme quindi noi come comitato organizzatore dobbiamo mettere in acqua predisporre sei campi di regata contemporanei mettere in acqua più di 45 boe mettere in acqua 60 mezzi di assistenza ognuno ogni mezzo almeno con un equipaggio fornito di due persone capaci che sappiano mettere le boe che sappiano fare assistenza ed è un'organizzazione come si diceva prima veramente importante che solo diciamo questa grande coesione questa capacità che c'è nella città di Ancona nei circoli anconetani ha reso possibile diciamo ci stiamo attrezzando per fare un'ottima figura pensate che questa è la prima volta che il cicco viene nelle marche la prima volta in assoluta quindi è un evento veramente importante è il campionato italiano tra l'altro concludo dicendo che ci saranno campioni di tutto rilievo nella classe kitesurf ci sarà è scritto il campione europeo in carica che ha vinto ieri Riccardo Pianosi ha vinto ieri il campionato europeo e ci sarà anche la medaglia di bronzo allo stesso campionato europeo negli IQ FOI che sono il windsurf su FOIL c'è Marta Maggetti olimpionica a Tokyo nonché campionessa del mondo l'anno scorso ci sarà Giorgia Speciale l'Anconetana Giorgia Speciale cresciuta nelle file della Stamura pluri campionessa del mondo medaglia d'oro alle olimpiadi di giovanili di appunto di Buenos Aires nel 2018 ci saranno nei 470 che è il doppio e nel 49er che è l'altro doppio ci saranno praticamente tutta la rappresentativa di Tokyo 2020 cioè degli olimpionici che erano a Tokyo e poi tanti altri campioni che arricchiscono veramente questo parterre assolutamente eccezionale la crema della vela nazionale grazie ringrazio ovviamente tutti diciamo coloro che sono intervenuti se ci sono domande dal pubblico siamo ovviamente a disposizione altrimenti diamo appuntamento allora le classi sono 8 poi ci sono le categorie femminili e maschili quindi ok ci sono alcune classi dove si va in unisco che è maschio e femmina per regolamento altre classi dove c'è la classifica maschile e la classifica femminile quindi le tipologie di imbarcazioni sono 8 ma ci sono più podi diciamo così è buono dicevamo prima che le previsioni sono che entra alta pressione e quindi sarà caldo e probabilmente la prevolta l'inizio ecco quindi aspettiamo bene allora se non ci sono altre domande appunto do appuntamento dal 26 settembre quindi al 1 ottobre al Marina Dorica e credo come si dica in questi casi buon vento grazie